il rapporto tra massoneria e vaticano c'è dualismo la massoneria e vaticano c'è stato e in che misura si manifesta se così è io questo l'ho intitolato nel mio prossimo libro che uscirà il 18 gennaio da Juvens il titolo del libro è lezioni di massoneria qui c'è un capitolo che riguarda i rapporti tra massoneria e chiesa cattolica che io ho sottolineato con la frase dialogo tra sordi perché quando nasce la massoneria a lontra agli inizi del settecento il vaticano ha sperato che tramite la massoneria potesse riprendere il controllo religioso dell'isola e quindi ha consentito che si costituissero loggie anche in vaticano ma si arrivò al 1738 e nulla accadde il papa clemente xii ormai deluso e irritato emise la bolle in eminente con cui enunciava il principio dell'inconciliabilità che significa che vi è inconciliabilità tra l'essere cattolico e l'essere massone cioè in altre parole il cattolico non si può iscrivere alle logge massoniche perché vi è inconciliabilità sorta di scomunica esatto ma questo siamo già nel 1738 io ho spiegato ecco nel mio saggio le ragioni di tutto questo di questa inconciliabilità l'inconciliabilità viene ribadita da leone tredicesimo nell'ottocento viene ribadito da razzinker quant'era presidente della congregazione della fede è stato ribadito qualche giorno fa anche da francesco francesco ha detto il cattolico non può essere massone se lo fa si trova in uno stato di posizione grave ecco di grave peccato peccato grave e questa la chiesa è stata sempre lineare è vero che dopo il concilio vaticano secondo vi è stato un atteggiamento di entusiasmo e alcuni preti hanno ripreso col maestro gamberini giordano gamberini questo dialogo ecco si facevano incontri pubblici anche nei cinema ecco è solo un dialogo oppure è possibile che strutture di potere interne al vaticano magari non si chiamano massoneria si chiamano in un altro modo abbiano diciamo così la stessa un po come se fosse un parallelismo interno come le logge coperte eventualmente che si sono create post p2 o quello che abbiamo parlato prima insomma no questa è fantasia questa è fantasia questa è fantasia ciò che noi abbiamo potuto vedere e questo dialogo tra alcuni preti e il gran maestro gamberini che cercavano di fare un dialogo per avvicinare le due posizioni e quei tutto questo era stato alimentato dal concilio vaticano seconde da paolo sesto però nel 1983 il cardinale razzincare con la congregazione della fete emana un documento massoneria e religione sottoscritto da giovanni paolo secondo in cui dice i cattolici non possono iscriversi alle logge masoniche perché vi è in conciliamento ora c'è tanta fantasia della costituzione di logge coperte all'interno del vaticano ci può essere qualcosa ecco qualche cardinale casi particolare non mi stupirebbe nella misura in cui strutture come l'opus dei o iorre banche vaticane eccetera hanno fatto affari con le mafie ecco a quel livello sì ma non che ci fossero logge nel significato proprio del termine ok di quello che di cui abbiamo parlato prima faccio un esempio tra l'attuale segretario di stato il cardinale parolin e me stesso aveva un rapporto di amicizia questo non significa che la massoneria è entrata in vaticano o che il vaticano è venuto nel mio ordine degli illuminati no è chiaro è chiaro l'esempio è molto chiaro anche se anche se quanto ho costituito l'ordine degli illuminati che allora chiamavo accademia degli illuminati nel 1982 la segreteria di stato mi chiese di mettere tra i soci fondatori uno dei loro prelati e questo fu mi proposero monsignor georg eltaroff bulgaro che era capo della della diplomazia dei servizi e colui che aveva seguito la pista bulgara nell'attentato giovanni paolo secondo se lei a roma va a prendere l'atto costitutivo della fondazione dell'accademia degli illuminati tra i fondatori ci trova anche monsignor georg eltaroff ma questo non significa nulla ok non significa nulla professore nel diciamo così parlando adesso abbiamo parlato del vaticano il vaticano comunque uno stato straniero diciamo in terra d'italia quindi in qualche maniera parlare di questi rapporti tra la massoneria italiana e l'estero quanto è importante ce lo siamo detti di fatto prima il riconoscimento della masseria inglese per le obbedienze in italia abbiamo visto che c'è stato un giro goi loggia regolare di nuovo goi quanto è importante punto il riconoscimento con la masseria inglese questo punto mi pare dire la più importante del mondo e la gran loggia madre del mondo viene chiamata proprio perché come ricordavo prima la massoneria nasce modernamente a lontana il 24 giugno 1717 sul modello della monarchia inglese quindi non c'è alcun dubbio su questo almeno simbolicamente il riferimento massimo insomma la massoneria italiana nasce sotto l'influenza del grand oriente di francia il grand oriente italia nasce più o meno perché non c'è ancora la data definitiva intorno al 1862 qualche anno dopo costantino nigra il famoso diplomatico che ne diventa gran maestro chiede alla gran loggia unita d'inghilterra alla massoneria inglese il proprio riconoscimento il riconoscimento viene dato 110 anni dopo nel 1972 ma nel frattempo che cosa è avvenuto è avvenuto che il grand oriente di francia che era stato riconosciuto dalla massoneria inglese sotto l'influenza dei positivisti in modo particolare di litre elimina la formula del grande architetto dell'universo il positivismo si muove su basi empiriste ecco empiriste quindi eliminando il grande architetto dell'universo fa esprime un atteggiamento materialista che non è condivisa o condivisibile dalla massoneria inglese la massoneria inglese immediatamente toglie il riconoscimento alla massoneria francese e questo avviene nel 1887 e ancora oggi così avviene ora che quindi da questa data nel mondo vi sono due autorità massoniche da una parte la massoneria inglese dall'altra la massoneria francese che si differenzia per questo pronunciamento a favore di un materialismo ateistico il grand oriente di francia il grand oriente d'italia negli anni successivi trova l'influenza da parte del grand oriente di francia cioè a influenzare gli sviluppi del grand oriente d'italia è proprio il grand oriente di francia quindi diciamo simbolicamente il riferimento era sempre l'inghilterra ma non c'entra più ma mai c'è stato l'inghilterra il riconoscimento quando arriva allora nel 1972 ok 110 anni dopo quindi dopo questa separazione e il grand oriente d'italia diciamo così segue gli sviluppi e quindi subisce l'influenza del grand oriente di francia quando io sono stato iniziato 62 anni fa era ancora il grand oriente di francia a influenzare l'eroge del grand oriente quindi c'era quella forte influenza a cambiare completamente questa prospettiva e questo bisogna sottolinearlo è stato giordano gamberini gamberini da quanto è diventato gran maestro nel 1961 fino al 1970 ha fatto una rivoluzione copernicana del grand oriente d'italia ha chiesto il riconoscimento all'inghilterra ha ripreso i contatti col vaticano e ha cercato di riunirsi con la gran loggia d'italia il grand oriente di oggi è il risultato di questa rivoluzione copernicana che ha fatto gamberini quindi oggi il grand oriente d'italia non ha più nulla a che fare col grand oriente di francia ma segue soprattutto dopo il riconoscimento del 1972 rigorosamente la masoneria inglese allora che cosa avviene il grand oriente ottiene il riconoscimento inglese nel 1972 ma nel 1993 lo perde dopo le sue denunce lo perde quindi mantiene il riconoscimento 72 per 21 anni lo riprende oggi praticamente dopo 30 l'ha perso nel 93 dopo 30 anni dopo 30 anni ecco che allora la masoneria inglese dal diciamo dal riconoscimento del grand oriente nel 1972 quindi parliamo di 50 anni fa ecco ha sempre esercitato una forte influenza sulla masoneria italiana la gran loggia regolare d'italia che io ho affrontato dopo le dimissioni del grand oriente è stata creata sul modello della masoneria inglese che è stata sempre considerata dalle sue origini la gran loggia madre del mondo avere il riconoscimento della masoneria inglese significa entrare nel circuito internazionale delle masonerie regolari 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 nel senso che sono state riconosciute dalla gran loggia unita d'inghilterra e avere quindi il sigillo delle masonerie nobili all'epoca era il duca di kent il riferimento lo è ancora lo è ancora anche dopo la morte della regina sì sì perché il duca di kent resterà il gran maestro finché lo vorrà e in carica ormai da 65 anni il duca di kent la masoneria inglese è in crisi anche perché non riesce ad esprimere il nuovo gran maestro questa è una delle ragioni e il rapporto della masoneria abbiamo parlato di gelli gelli si sa che ha avuto lunghi periodi in latino america si dice che in latino america tenesse documentazione importante forse magari sono finiti lì quei documenti che potevano finire nelle sue mani magari sono nascosti in qualche posto in sud america lo stesso un'altra la masoneria anche degli stati uniti comunque ha un peso notevole di rilievo che tipo di influenze hanno queste masonerie diciamo così l'oltreoceano che ruolo hanno sia nei nei loro paesi dove oggi comunque c'è un aria un certo senso di cambiamento vabbè e nei suoi stati uniti c'è biden che comunque si andrà elezioni da qui a poco in sud america sembra tornata una nuova ventata in argentina per esempio si va molto verso destra con l'ultimo con le ultime elezioni cioè che peso hanno comunque le masonerie in questi paesi così lontani ma forse anche così vicini perché diciamo appunto gelli delle chiaie sono personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese e hanno fatto la storia anche in sud america penso io nel nell'america latina la masoneria è molto forte forte e potente praticamente si muove a livello di stato ma soprattutto e questo una caratteristica tipica delle masonerie latinoamericane è quella di avere una stretta attinenza con la chiesa cattolica la maggior parte dei massoni sono anche credenti e fedeli della chiesa cattolica e vanno contro al precetto che abbiamo detto prima di scomunica ecco perché che cosa ha motivato qualche giorno fa la dichiarazione di papa francesco la richiesta di un cardinale cioè della di un cardinale del sud america il quale chiedeva come comportarsi in questa situazione in cui i cattolici sono sono anche massone quindi il problema nasce lì io le cito un caso personale quando ero gran maestro del grande oriente e ho partecipato alla conferenza delle masonerie del sud america il gran maestro del messico mi disse quanto torna in italia vai dal papa e ricordagli che mi ha che mi ha promesso un anello che lo sto ancora aspettando cioè per lui era normale ricevere un anello dal papa ma soprattutto che io andassi dal papa a dire guarda che sta aspettando magari è l'anello che tu avevi quindi questa è una caratteristica tipica però crea adesso problemi e il cardinale sud americano ha chiesto al papa come comportarsi e il papa ha detto fuori i massoni dalla chiesa se devo fare il malpensante però prima se era normale per quella persona ricevere l'anello dal papa magari il papa da una parte mostrava che era contro e dall'altra se la faceva sono giochi sono giochi però restano resta a monte dal 1738 questo principio di inconciliabilità professore in un'intervista del 2001 con lutazzi per satiricon lei aveva parlato di una crisi radicale come mai era avvenuta nella storia dell'umanità era l'anno 2001 nel 2001 sappiamo che c'è stato un cambiamento epocale con l'attentato del torri gemelle oggi se guarda al mondo crede che la situazione sia peggiore o migliore già parlava di crisi a livello radicale oggi di come la come la definirebbe è peggiore è peggiore fino a che punto cioè l'umanità è entrata in una fase che potrebbe comprometterne l'esistenza oggi noi stiamo assistento siamo testimoni di due guerre quella tra l'ucraina e la russia quella tra israele e hamas queste due guerre non sono nate per caso né sono guerre limitate spazialmente perché sono due guerre su commissione la guerra russo ucraina l'ucraina la sta con patente su commissione degli stati uniti la guerra israele hamas hamas la sta con patente su commissione della cina e della russia dell'india e dei paesi del brics quindi c'è una motivazione economica dietro di fatto se parla di brics cioè politico economica qui c'è una precisazione però da fare tutte le guerre hanno avuto una motivazione economica giustamente questa guerra se ci sarà innanzitutto non sarà la terza guerra mondiale perché le prime due guerre mondiali sono state guerre dell'occidente nella seconda guerra è stata coinvolta il giappone ma paesi dell'oriente sono state esclose se ci sarà una guerra sarà totale e coinvolgerà tutti i paesi del pianeta terra quindi il discorso si sposta e sale di livello ma salendo di livello oltre all'economia che cosa troviamo troviamo lo scontro tra concezioni della vita e del mondo uno scontro antropologico ci sono due concezioni dell'uomo e della vita che si fronteggiano che si fronteggiano e ecco perché lo scontro sarà totale perché l'uomo non compatte per appropriarsi di alcuni territori di alcuni miniere di oro o di beni materiali l'uomo compatte per far trionfare una concezione dell'uomo della vita e noi da una parte quello l'ultimo mio libro ecco che è stato pubblicato si intitola appunto liberalismo contro totalitarismo due antropologia confronto per la conquista del pianeta terra e io li mostro le ragioni per cui se ci sarà la prima guerra totale ecco sarà una guerra che porterà alla nascita di colui che io ho chiamato l'uno dio cioè la parte che vincerà la guerra totale esprimerà l'uno dio che governerà il mondo in maniera totalmente assoluta assoluta però non è il dittatore come quelli che abbiamo conosciuto nella storia recente stalin hitler mussolini ma sarà un essere umano dotato delle più grandi conoscenze scientifiche pensi all'intelligenza artificiale pensi al potere che avrà colui che avrà nelle sue mani l'intelligenza artificiale già esiste quindi questo tra virgolette uomo dio tra virgolette questo uomo è in divenire è in divenire ci sarà se l'umanità andrà incontro a questa guerra totale e in questa guerra totale la massoneria che ruolo può recitare o gioca o la massoneria di oggi nessun ruolo in passato avrebbe avuto un ruolo ecco allora la massoneria di oggi nessun ruolo non ha un ruolo nella società in cui viviamo figuriamoci nel futuro dove le cose saranno megalattiche ecco però l'uomo non solo in oriente in occidente ma anche in oriente da quando ha cominciato a usare l'intelletto a riflettere sulla vita sul mondo e su se stesso ha sempre immaginato un percorso esoterico iniziatico sempre lo troviamo sempre nella storia dell'uomo ma perché questo che cosa significa esoterico esoterico significa interno ciò vuol dire che per avere certe conoscenze bisogna entrare in un luogo interno se tu sei all'esterno di questo luogo non hai quelle conoscenze ma per entrare in quel luogo tu devi superare delle prove l'iniziazione ecco che allora tu sei profano che vuole conoscere per conoscere devi essere iniziato supire delle prove dopodiché ti ritrovi all'interno di un luogo che viene considerato sagro non religioso sacro e lì tu potrai passare da un livello all'altro da un grado all'altro fino ad arrivare alle conoscenze che sono conoscenze su se stesse sulla società e su dio quindi io ritengo che nel futuro ci sarà una masoneria non come è rappresentata oggi ma ci sarà perché è nella natura umana immaginare un percorso di questo genere le ultime domande sempre riprendendo alcuni temi che magari abbiamo lasciato per strada lei in passato però anche raccontato di aver appreso per la viva voce praticamente che per esempio appunto la masoneria francese che ha descritto come una masoneria che seguiva delle logiche magari anche più materiali ha tolto il grande architetto quindi forse anche così in questo senso magari si spiega il perché era direttamente coinvolta in traffico di armi o comunque lei lei la lo ha praticamente ha preso dalla viva voce per una telefonata e certo e qui ritorniamo alle negatività della masoneria italiana del grand oriente quando io ero gran maestro del grand oriente una notte sono stato svegliato dal telefono continuava a suonare a un certo momento deciso di rispondere sento una voce con un accento straniero quasi francese che mi chiedeva la fornitura delle solite armi leggere e pesante io ho lasciato parlare ho lasciato parlare per sentire quindi mi indicava alcuni tipi di armi la commercializzazione ho lasciato parlare ad un certo momento al mio interlocutore è venuto qualche sospetto e mi ha chiesto ma parlo col grand maestro? gli ho detto sì parlo con Armando Corona? no sono Giuliano Di Bernardo tac ecco ora lei sa da giornalista che il grand maestro Armando Corona era stato messo sotto inchiesta dal giudice Palermo che abita qua su a un chilometro per traffico di armi ecco l'inchiesta del giudice Palermo è stata praticamente bloccata è stato bloccato perché si è potuto dimostrare che Armando Corona vendeva armi per conto del governo italiano per conto della fin meccanica da questo punto di vista ci vorrebbe un attestato di beneverenza però può un grand maestro fare vendita di armi? noi torniamo al problema morale cioè se legalmente non è perseguibile però moralmente è non ha ragione di esistere e lei avvisò la Francia la francese che le dissero ma certo confermarono che era tutto quanto regolare praticamente per loro io quanto sono stato in visita per una riunione massonica nel Gabon nel Gabon il presidente era il grand maestro era il grand maestro e fu il grand maestro ecco a dirmi che il mio predecessore Armando Corona era andato da lui per vendere armi di questo informò la massoneria francese la Gelenet e il grand segretario Yves Tristurnella è quanto su tutte le furie quanto mi incontrò mi disse ma come si è permesso il tuo predecessore a invadere il nostro mercato io disse qui la massoneria proprio non c'entra più niente cioè è un'altra cosa ancora e siamo sempre negli anni 90 quindi da questo punto di vista sempre mettendoci d'accordo nelle terminologie chiaramente io posso è valido dire che in qualche maniera comunque le massonerie condizionavano gli equilibri anche del mondo ma certamente in quel modo lì però io sono un idealista io vedo la massoneria per quello che è e quindi io contanno tutte queste forme di degenerazione è quello che le volete fare ma noi chiamate le massonerie lasciate che la massoneria sia quella nobile e antica società che per secoli ha pensato al benessere morale e materiale dell'umanità quindi è in questo senso che esiste il sistema criminale integrato di cui parlano tanti addetti ai lavori al cui interno vi sono le derive diciamo così massoniche servizi mafie eccetera eccetera questa è la spiegazione è così un tema credo importante è proprio abbiamo parlato prima delle infiltrazioni no? drangheta cosa nostra nella massoneria ma cos'è che lega cosa nostra drangheta con la massoneria? cioè perché si incontrano? è solamente perché la massoneria è uno strumento diciamo per poi arrivare ad altri livelli come hanno raccontato tanti collaboratori di giustizia che dicono abbiamo creato la santa in calabria noi 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 in drangheta abbiamo creato la santa per arrivare a un certo tipo di potere e quindi diventa tra virgolette quel sistema di potere il sistema criminale diventa un luogo dove si incontrano praticamente per fare affari vari personaggi di varia natura e estrazione sociale o c'è anche una profondità altra che lega e diciamo mette in parallelo queste organizzazioni criminali e con il mondo massonico che comunque ha i suoi riti cioè l'andrangheta più della mafia ha una specie di rituale ecco un rituale che sotto certi aspetti si può paragonare a quello della massoneria il modo di essere ammessi le punizioni a cui si va incontro se si tradisce l'atteggiamento di sudditanza nei confronti dei vertici e questo è un altro elemento che caratterizza l'andrangheta dalla mafia quindi potenzialmente gli appartenenti all'andrangheta vedono nella massoneria un ambiente conosciuto e questa è la ragione per cui cercano di entrarvi se vogliamo restare a questo livello è chiaro che poi le vere ragioni sono altre però qui vi è una ragione in più in più perché l'andrangheta cerca la massoneria? proprio per avere accesso a tutti i paesi del mondo dove c'è la massoneria e questo non solo in Italia ma anche all'estero crea le strane commissioni io le chiamo strane perché vi troviamo affiliati all'andrangheta massoni affaristi di ogni genere e quindi si vengono a creare quei gruppi di potere che servono per gestire affari e altro e altri e altro però da quello che ho potuto constatare in tanti anni queste sono aggregazioni temporanee cioè mentre la massoneria e l'andrangheta sono società secolari ecco secolari queste aggregazioni sono temporanee vengono costituite per raggiungere un obiettivo raggiunto il quale si sciolgono quindi vi è una specie di liquidità a questo livello di formazione e quindi hanno la loro rilevanza, la loro importanza nel determinare le finalità e anche le caratteristiche delle società in cui operano a suo modo di vedere per quale motivo in tutta la Sicilia diciamo così in realtà la parte più forte è proprio nel trapanese della massoneria cioè perché proprio la fascia, lasciando la tritanza di Matteo Messineraro è come se in quella fascia lì, prima aveva citato Carlo Palermo il giudice Carlo Palermo proprio in quella zona è stato vittima di un attentato c'era dietro magari anche una componente massonica c'era loggia Scontrino nel trapanese certo, certo, certo e questa è una constatazione che possiamo fare cioè le formazioni diciamo così riservate e coperte di questi gruppi si sono sviluppate da Palermo a Trapani cioè soprattutto nella zona del trapanese io penso perché lì forse ci sono le condizioni non solo culturali ma anche geografiche cioè a me quella zona del trapanese piace moltissimo io la frequento da quanto diversi anni fa andavo al centro Ettore Majorana per le nostre settimane di filosofia della scienza bene da lì io poi quasi sempre andavo nel trapanese i luoghi di Campobello di Mazzara di Tre Fontane di Torretta Granitola sono tutti i luoghi che io ho frequentato e che conosco perfettamente per questo io dico come è possibile che Matteo Messina Denaro che viveva in un luogo dove tutti controllano tutti tutte si conoscono perché questa è un'altra caratteristica lì il senso della comunità in senso sociologico è molto forte si conoscono tutti tu vai a Catania, Messina, altre città ormai si è perso ecco c'è l'individualismo della società la differenza fatta da tennis tra società e comunità lì qui si ritrova e allora mi chiedo in un ambiente così ristretto dove tutti si conoscono è possibile che Matteo Messina Denaro non sia stato riconosciuto coincide che in quelle zone c'è un'alta densità di logge forse anche un numero sovrabbondante tra Castelvetrano e Campobello di Mazzara cominciamo già come ricordavo prima con Antonio Vaccarino il sindaco di Castelvetrano che è stato il primo caso ecco di Massone chiaramente affiliato alla mafia poi si è messo a fare il collaboratore di giustizia eccetera eccetera però lui che aveva avuto comunque un rapporto epistolare con il fratello di poi si è detto esatto esatto quindi questa fascia Castelvetrano-Trapani ecco Trapani è stato sempre un luogo di predelizione della mafia della mafia e forse per caratteristiche culturali, geografiche luoghi in cui uno se vuole si può nascondere cioè a Catania non ti nasconti lì invece hai... cioè nascondersi significa circondarsi dell'omertà degli altri Santa Paola ha avuto le sue protezioni nel Catanese però è per dire la cosa particolare soprattutto che ha sempre colpito è che certi personaggi alla fine li hanno cercati di tutto il mondo magari ci sono anche andati ma alla fine si sono stati presi tutti quanti a casa loro molto spesso ecco l'ultima domanda sulla tua visione di quello che sarà o potrà essere insomma il mondo e quella il tuo aspicio perché appunto abbiamo parlato di momenti difficili, momenti bui in un certo senso e qual è la direzione che si sta prendendo e che si sta andando insomma? ecco considerando proprio la via che sta imbroccando l'umanità che ci porta forse a un conflitto totale questa mazzoneria come ho detto prima non ha ragione di esistere semplicemente perché non ha potere e non conta nulla non è capace di capire le vere ragioni, questi cambiamenti rapidi e immediati che avvengono nella società ecco quindi noi possiamo immaginare la mazzoneria come un gigante dai pietri d'argilla che cerca di seguire al passo la società che invece corre alla velocità della luce finirà a un certo momento a ritrovarsi all'interno di un museo a narrare antichi momenti di gloria però ormai senza essere più in grado di incidere sulla società ecco perché io mi sono ritirato già venti anni fa dalla mazzoneria non solo quella italiana ma anche quella internazionale io mi trovavo ai vertici delle mazzonerie più importanti per così dire nella sala dei bottoni dove vedevo che cosa accade nel mondo io mi sono ritirato perché avevo già visto proprio perché avevo il privilegio di stare lassù che la mazzoneria sarebbe andata in crisi, sarebbe degenerata e sempre più incapace di far fronte alle sfide che ci provengono dalla società e questa è la ragione per cui io ho fondato l'Ordine degli Illuminati e Dignity che è la controparte operativa degli Illuminati l'Ordine è uno che ha due facce una si chiama Illuminati ed è costituita da intelletti pensanti che creano i progetti dall'altra vi sono gli Illuminati operativi quelli che devono applicare questi progetti nella società ecco io ho preferito chiamare gli Illuminati operativi Dignity per non dare due livelli agli Illuminati gli Illuminati sono quelli coloro che creano i progetti per lo sviluppo dell'umanità e anche le due forme di organizzazione sono fondamentalmente diverse quindi io in questo mare tempestoso ho messo una zattera dove faccio salire persone che hanno la luce dentro che possono dare un contributo alla risoluzione dei gravi mari che oggi affliggono l'umanità con la speranza ecco di arrivare verso il futuro e creare lì la vera masoneria grazie professore di Bernardo per il tempo che ci ha dedicato grazie a tutti